Oggi il cimitero si presenta così, decoroso, spazi verdi bonificati e privi di erbacce, cartelli che avvertono sulle modalità di deposito dei rifiuti, i cassonetti della differenziata, plastica, fiori, carta, i camminamenti ordinati e puliti e nessuno spazio lasciato all'inciviltà altrui. Con l'amministratore unico della società in house Andrea Maltoni e alcuni operai in house abbiamo fatto un sovralluogo per verificare lo stato di decoro del luogo santo e la società in house, a quanto abbiamo potuto constatare, sta lavorando per adempiere ai suoi compiti come meglio possibile. Sono state fatte tante segnalazioni e continueremo a farle qualora la situazione cambi. Ma oggi abbiamo voluto dimostrare che con l'impegno di tutti si può mantenere il cimitero in condizioni decorose e idonee per i nostri difunti.